Andiamo Voltare a sinistra Prepararsi a voltare a destra Voltare a destra Prepararsi a voltare a sinistra Voltare a sinistra Tenersi a destra e poi voltare a destra Voltare a sinistra Voltare a destra Voltare a destra Voltare a sinistra Voltare a sinistra andare dritto prepararsi a voltare a sinistra voltare a sinistra torrere a sinistra intem care 30 Nm 7 28 Nm 21 Nm Grazie a tutti. 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 Andare dritto. Grazie a tutti. Andare dritto. Grazie a tutti. Andare dritto. 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 Voltare a destra. Siamo arrivati a destinazione. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!